...del ruolo, non posso dire le parole, mi arriva precisa, ma diceva un ruolo insomma che non gli piaceva proprio perché ha dovuto venire dietro. Attenzione Amoroso, in area Amoroso, palo sul sinistro, rete! Amoroso può esplodere, la Friuli, 44esimo, Ludinese ancora in vantaggio, gran gol! Questa è una prodezza, questa è una grandissima prodezza da parte di questo giocatore che dimostra il suo spessore. Questa è una partita decisa, a volte quando si dice che sono l'estro dei singoli, le individualità che decidono le partite, guardate, sembrava una partita decisa sul risultato di pareggio, ma guardate cosa combina Amoroso. Guardate, stop al pallone, riesce a liberarsi dell'intervento di Fouser e calcia con, direi, prontezza, potenza e direi che Ludinese si è andata in vantaggio e se probabilmente vincerà questa partita, direi un po' ingenuo anche Sartor qui nel... Grazie!